Teglia romana, salsicce e funghi, cotta a convezione, in forno a convezione, scrocchia, le magie facciamo, le magie, magari credo che diciano le balle, è vero o no che l'abbiamo cotta a convezione? E ora facciamo anche quelle pomodorine, dopo essersi pappati questa, un tucchettino, signora io non le ho chiesto neanche il suo nome, Lucia, signora Lucia, Michele, c'è Sara, fai ciao Sara, dai, dai, ciao, e qua abbiamo voluto fare una bella crostino con il cotto e i funghi e la mozzarella. Non ho il coraggio di mangiare, ma adesso questa avrà 270 gradi interno, ma la signora Lucia bocca da miando. Grazie 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 Grazie